Bologna Inside, signori, 31 di ottobre, siamo qui nella notte di Alwi alla presentazione di questo libro. Così si gioca solo in paradiso, dedicato al Bologna, dopo la sonante vittoria di ieri, ben 3 a 0 a Cagliari. Vediamo un po' cosa succederà. Un grande esperto di sport, un amico, anche un compositore di canzonette, signori, Ido Guccio. Grazie a tutti. A me più intelligenti che altrove e trovare uno che butti dei baiocchi per la squadra di calcio sarà difficile. Questo è il nostro destino. Un Moratti dalle nostre parti non ne sarà mai più. Grazie. Sulla fascia, come sempre, il capitano dello scudetto, Mirko Pavinato. Qui il capitano dello scudetto, terzino sinistro o destro? Sinistro. Mirko Pavinato. Qual è fu il momento più bello, a parte il giorno dello spareggio di Roma? Cioè, quando avete capito che potevate vincere lo scudetto? Quando siamo andati a fare lo spareggio, io penso, perché non ci pensavamo lontanamente, perché avevamo fatto un giro all'andata molto bello. Poi è venuto fuori la situazione, la storia del top e non abbiamo giocato molto bene, a dire la verità. Poi ci hanno ridato quei tre punti che siamo andati a fare lo spareggio. Però, io dico una cosa, i tempi sono cambiati talmente, in un modo spaventoso, perché noi abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo fatto la partita, non abbiamo fatto una partita in diretta, non è stata fatta. Siamo andati, arriviamo a Fragene, là in un albergo da sole, è finita la partita, adesso qui vincono un campionato per fuochi d'artificio, poi immaginano per le strade, meglio così per loro. Erano altri tempi, altri tempi, sì, però non so, poi ci sono passati 100 anni, non è questo. Un rimpianto negli anni dopo, com'è che il Bologna non è più riuscito a vincere lo scudetto, era pagato, squadre più forti? Perché ci vuole, bisogna essere abituati a questi qua, cioè la Mila Inter e Juve partono tutti gli anni per vincere, noi se ci lasciamo vincere una volta ogni tanto, perché poi, ha visto che ci volevano fermare col doppio, questo è il problema. Quindi adesso, sono sempre loro. Bernardini, a che allenatore si potrebbe paragonare adesso? Beh, io lo paragono, non so, abbastanza come uomo, poi, sa, praticamente, a Pioli. A Pioli, a me è un personaggio che mi piace molto, ho avuto modo di parlare con lui, gli auguri che va da tutto bene e sta andando bene. Perché ci lamentiamo tutti, protestano tutti, però, se andiamo a analizzare, abbiamo perso una partita a Sassuolo, 2 a 1 mi sembra, 2 a 1, quando si poteva vincere, o al minimo parigiata. Il governo, abbiamo perso una partita con il Mila, che si diceva 3 a 1, 5 minuti della fine, avevamo 4 punti di più, eravamo già a 13 punti, eravamo già davanti al Mila, con una partita in meno. Com'è che lei non ha fatto l'allenatore? No, io avevo un'attività mia qui a Bologna, e la federazione mi ha dato la possibilità, che mi andava anche bene, io ho allenato 22 anni, la compagnia atleti. Ah, la compagnia atleti. Eh, sì, che sono passati un sacco di giocatori, con le nostre parti. Tipo? Eh, a Piatti, che stanno guardando, come perché, non un'infinità, 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 non mi ricordo neanche più. E quindi ha allevato tutti questi giocatori? Ha allevato? No. Sono andato, ma sai, ho bisogno di partire con un essere forte qualcuno, deve essere il tipo Mangini, grossi giocatori, si parte con le squadre grosse, e ho stato due anni a San Marino a fare la parola C, C2, ho detto meglio che a me in casa, infatti avevo la mia attività, andavo alla parola vicini, ho fatto 22 anni lì che mi sono divertito con i giocatori. Grazie. Avrebbe potuto giocare in tutti i luoghi, è capitato in una squadra in cui c'erano Mirsi, Alla, Bulgarelli e Pascutti, ma avrebbe potuto giocare in tutti i luoghi dell'attacco, si è messi sulla fascia destra. Ha giocato tante partite in nazionale, è veramente un grande campione, sia nel calcio che nella vita, Marino Perani. Un ricordo dello scudetto di quel giorno, cos'è che ti rimane impresso? Mi rimane impresso che una città come Bologna sia così calda, diciamo, anche in un momento che la squadra va male adesso, però questo è significativo proprio anche per quelli che giocano ora, di sapere dove sono. Uno è in una città che attendono tante cose, quindi devono sforzarsi perché poi le qualità le hanno anche io, dopo il che ho visto io. Perché secondo te il Bologna non ha più vinto lo scudetto? Beh, parliamo di tanti anni fa quando noi ci siamo accorti, senza saperlo, di essere forti, perché abbiamo cominciato a vincere, di qua, vinci di qua, vinci di là. Ma già anche l'anno prima avevate iniziato. Sì, perciò vuol dire che delle volte a fare una squadra non è proprio così difficile, basta avere l'occhio sui giocatori che in prospetto possono migliorare e che siano giovani. Noi abbiamo fatto così, abbiamo vinto tanto perché noi ci siamo accorti solo sul campo di essere forti. Quando incontravamo gli avversari praticamente vincevamo, allora ci sarà un motivo. Il tuo gol più bello quell'anno? Ti rimane impresso? Oh, mi ricordo una grande resciata, mi sembra contro il Milan, però non sono sicuro se è contro il Milan, ma però c'è un gol bellissimo che nessuno se l'aspettava, tantomeno è loro portiere, naturalmente. La sera è la sera di Allure, il Bologna è un dolcetto o uno scherzetto adesso? Ma è stato un amaretto più che altro fino a ieri sera, perché la partita di ieri sera ha cambiato il panorama. Questa squadra evidentemente nelle mani di Pioli ha la capacità di rinascere, di ricostruirsi come è l'aroma fenice, adesso ci aspetta una partita in casa con Chievo che potrebbe confermare un trend e stabilire che siamo usciti dalla crisi. Ieri sera abbiamo goduto, non mi aspettavo una partita così, ogni tanto ci sono anche dei dolcetti insperati. Grazie, grazie a te.